L'edizione 2017-2018 delle festività di Natale e Capodanno andranno a chiudere per Ferrara un'annata che ha portato numeri importanti per il turismo. A comunicarlo in conferenza è stato il vice sindaco Massimo Maisto. Tra i tanti festeggiamenti del 31 dicembre ci sarà anche quello del record di presenze turistiche nella nostra città. Ormai anche con la crescita di settembre lo possiamo dare già per consolidato, abbiamo superato gli anni della crisi, della crisi economica del terremoto e stiamo facendo il dato migliore da sempre. Questo è positivo perché significa occupazione, significa occupazione nella filiera turistica ma anche nella filiera commerciale. Non ci basta, vogliamo aumentare anche nei prossimi anni e uno dei modi per aumentare è quello di allargare la durata, ingrandire la durata degli eventi e far sì che eventi come per esempio il Capodanno facciano da trai ma anche del periodo natalizio e del periodo successivo. Un anno dunque da ricordare mentre si avvicina al momento di maggiore investimento per l'amministrazione comunale. Un bando da 100.000 euro per le tante iniziative natalizie che rappresentano tuttavia circa un quarto del budget complessivo per i 50 giorni di eventi compensato da partner privati. Un rapporto pubblico privato che sta offrendo risultati sempre più positivi. Penso che sia il clou di questo rapporto non solo per l'entità ma proprio anche per le manifeste volontà che sono in campo, associazioni, scuole, terzo settore e credo che questo ci sia riconosciuto anche al di fuori delle quattro mura. Uno sforzo importante per non lasciare indietro nessuno.